ciao a tutti credo di essere in diretta in questo momento ok perfetto benvenuti siamo in compagnia della nostra scrittrice Sara Rattaro ciao Sara ciao buonasera a tutti come stai va bene dai nonostante questo momento di difficoltà incertezze paura anche insomma croccio le dita ancora tutti bene siamo riusciti a trovare un modo per non far saltare fortunatamente del tutto l'evento ci saremmo dovuti incontrare dal vivo sarebbe stato sicuramente bellissimo ma cerchiamo di essere il più vicino possibile anche in questa modalità siamo qui per parlare dell'ultimo romanzo di Sara sul filo dell'acqua edito da solferino edizioni ditemi che si vede benissimo la copertina ok Sara io un sacco di domande perché ho amato probabilmente più di tutti gli altri sono anche una tua fan quindi allora allora la primissima curiosità nasce dalla gestione della collana sul ferino nel senso che ho letto che che è stata inaugurata un po questa collana inerente agli elementi volevo sapere è un progetto che ha ideato sul ferino i quattro elementi chiedendo a quattro autori di occuparsi di uno di questi elementi io ho pescato l'acqua prima di me è uscito già il romanzo che aveva la terra quindi è uscito giusto una settimana e è arrivato qua e quando è arrivata l'acqua insomma sono arrivate le idee infatti la domanda che volevo porti era la storia che narri quindi la storia dell'alluvione del 4 novembre della del 2011 è una storia che ti è venuta in mente eh non appena appunto sorteggiato a questo punto questo elemento o a prescindere dall'elemento era una storia che una storia che ti galleggiava dentro no guarda l'istinto è andato subito lì alla parola acqua ho pensato a Genova che è la mia città a quanto l'acqua sia questo elemento per noi come dire indispensabile e inscindibile da noi nel bene e nel male e da quella giornata drammatica che io ricordo molto bene tra l'altro insomma eh tra pochissimi giorni dopo domani sarà l'anniversario nono anniversario fu una giornata molto particolare ehm quindi l'idea parte da lì poi eh avevo la voglia di sperimentare qualcosa di nuovo anche eh infatti è un romanzo un po' diverso dal mio solito eh in cui c'è intanto tutta la mia passione per la trama perché io sono una tramologa e quindi credo che la trama sia quella che io la chiamo sua maestà la trama infatti insegno scrittura ormai da diversi anni sia all'università che nella mia scuola e insomma la sessione che dedico alla costruzione della trama è molto 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 intensa ci tengo che i miei studenti insomma escano di lì un po' nauseati addirittura dalla trama e quindi ho messo forse un po' in campo le cose che insegno mi sono un po' messa alla prova devo dire la verità eh con un intrigono non dei più facili da gestire beh anche perché è un corale molto corale nel senso sono otto personaggi ehm sia maschili che femminili e devo dire eh onestamente anche eh calati eh calati benissimo ognuno cioè ogni personaggio ha una identità specifica sono mi è sembrato io sono una fan di di serie americane e in generale di di serie tv e mi è parso di vedere una delle mie ultime fisse modern love però ancora più sai di cosa parlo sì 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 guarda ti dirò la verità eh in realtà l'ispirazione nasce anche da modern love cioè in tempi non sospetti in tempi non sospetti guardando quella serie mi sono proprio detta eh beh qui qui si può costruire qualcosa no poi in realtà forse la trama di sul filo dell'acqua è addirittura più intricata perché modern love sono davvero più staccati gli elementi eh cioè le narrazioni mentre nel mio sono un po' più intrecciate quindi però non nulla è a caso come dire io credo che tu sia una delle delle narratrici per per eccellenza del nostro attuale panorama dei dei sentimenti fammi dire della anche dei sentimenti universali eh questo libro ti sbatte in faccia l'amore come concetto e come come sentimento in in diverse in diverse prospettive cioè l'amore coniugale la maternità eh l'amore impossibile eh mi piacerebbe avere un po' il tuo occhio su cioè sarà Rattaro persona e poi sarà Rattaro scrittrice come si approcciano ai sentimenti in generale a questo che ti ho detto sì guarda per fare questo mestiere parlare dei sentimenti che tu hai definito universale bisogna essere dei grandi ascoltatori eh grandi ascoltatori è una delle assolute leggi universali proprio per fare il mio mestiere è quello di sollevare ogni forma di giudizio e quindi non non puoi fare questo mestiere pensando di fare il giudice e quindi nel momento in cui hai a che fare con un sentimento come l'amore che eh ovviamente conosciamo tutti e se siamo stati fortunati lo abbiamo vissuto in tante sue forme no l'amore è sicuramente la una delle cose che può farti stare peggio ma è anche una delle cose che può farti stare meglio eh lo vedi l'amore è molto più fisico e tangibile di di quanto si possa immaginare lo vedi lo vedi tra due persone che eh si capiscono tra due persone che stanno insieme tanto tempo tra due persone che si sono appena conosciute ecco ehm noi noi scrittori utilizziamo tutto quello che siamo la vita ci ha offerto per poter andare un pochino oltre perché io dico sempre la narrativa arriva dove la vita arrossisce cioè dove noi nella vita quotidiana non riusciamo a raccontare tutto quando incontriamo una persona difficilmente di questa persona riusciremo a sapere davvero le parti più intime no se riusciamo nella vita a sapere l'intimità vera di qualcuno di tre quattro persone siamo già stati molto fortunate vuol dire che siamo stati già circondati da quantomeno da rapporti autentici e la narrativa ci permette questo ecco in questo romanzo io racconto l'amore racconto l'amore omosessuale l'amore etorosessuale l'amore scandaloso l'amore tradito l'amore che tradisce eh l'amore coniugale l'amore all'interno di una famiglia un padre nei confronti di una figlia l'amore che si aspira che si si aspetta eh l'amore che 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 si perde che si perde sia per trattimento per l'allontanamento che per la morte ehm ed è tutto quello che di fatto poi in realtà ci insegna la vita è che quando lo vivi questo sentimento non hai contemporaneamente la possibilità di poterlo raccontare ecco mentre la narrativa ti permette di fare quella bolla quella sorta di pausa per cui dici beh io adesso lo racconto quell'amore non devi mai andare troppo lontano per capire che cosa stanno provando i tuoi i tuoi personaggi se sei stato fortunato abbastanza da 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 vivere no da confrontarti col mondo da osservare ecco eh buoni ascoltatori buoni osservatori eh privi di di giudizio non sta gli scrittori dare giudizi su cose giuste o se cosa sbagliato credere profondamente a alla tua storia nonostante tu abbia intenzione di metterla durissima prova e mh e poi cercare di spingere il piede sull'acceleratore ecco questo sì in questo libro non si ha neanche la paura di soffrire oltre che di amare e mi piace mi piace immaginare nel questo questo intreccio dei personaggi tra l'altro tre di questi personaggi se non erro sono personaggi realmente esistiti eh uno dei miei personaggi preferiti eh Anna eh adoro la tua descrizione di personaggi femminili perché in essi ci vedo la la forza eh ma anche la la non paura di di soffrire come dicevo prima eh sì è molto molto bello quello che dici alla base di tutto quello che ho voluto raccontare c'è anche la voglia di di dare un omaggio alla mia città e soprattutto ai genovesi ecco eh io racconto un avvenimento drammatico della mia città ma non è né il primo e ahimene non è stato neanche l'ultimo che la mia città ha vissuto ce n'è stato anche di più recenti la caduta del ponte eh che ci ha spezzati ulteriormente da tutto questo i genovesi sono sempre usciti eh intanto sono sempre usciti ma poi sono sempre usciti con grandissima dignità e con grandissima soberità e io con questo romanzo a modo mio ho voluto mettere un punto un punto fermo su questo cioè è così basta non che non se ne che non si discuta più su tutto questo siamo fatti così ecco nel bene e nel male e i personaggi che io racconto che di fatto sono dei genovesi potenzialmente dei appunto qualcuno è ispirato alla realtà qualcuno è stato inventato ma insomma è stato inventato da da una che conosce bene il materiale la materia prima il materiale umano quindi esatto il materiale umano che ho a che fare che ho qui intorno non devo andare troppo lontano e volevo raccontare raccontare questo cioè la capacità a distanza di un anno nel romanzo si si apre esattamente un anno dopo quella drammaticità e questi personaggi a modo loro ci raccontano che cosa si sono portati via da quella giornata in fretta e furia hanno portato via perché l'acqua stava arrivando quindi è un portare via molto materiale un portare via molto intellettuale un portare via molto sentimentale si sono salvati ecco i genovesi sono abituati a salvarsi ma sono anche abituati a ricostruire rimettersi in piedi ripeto con grande eleganza con grande sobrietà era quello che volevo raccontare anne o forse il personaggio emotivamente più forte perché anche il personaggio che da tutto questo da quella giornata da quella ipotetica giornata dal mio romanzo perde di più perde qualcosa di inimmaginabile e tutta la sua narrazione è legata a questo lei come dici tu forse non ha paura di soffrire ma perché il dolore non sarà mai grande quanto l'amore che che ha che ha vissuto noi quanto era come dire la fiducia e la consapevolezza di chi cosa di cosa ha perso ecco e quindi forse per questo che è uscito è uscito un personaggio molto molto forte adesso devo arrivato a questo punto possiamo essere ancora più intime quindi ti dico Sara io della tua scrittura apprezzo tante cose ma la delicatezza con cui non vuoi insegnare a vivere è una delle cose che apprezzo di più mi spiego meglio a un certo punto uno dei miei passaggi fondamentali che se mi consenti poi ti dei miei passaggi preferiti che se mi consenti poi magari leggo e quando parli del coraggio e tu non mi insegni cosa è il coraggio mi dici che cosa non è dove lo trovi il coraggio ha esitato un attimo e ha guardato fuori dall'oblò con se quella risposta la conoscesse bene credevo me l'avesse insegnato mio padre ma per lui essere coraggiosi significava essere intrepidi non era mai preoccupato di niente né di camminare in un bosco di notte né di dover affrontare una malattia ma questo non è coraggio è incapacità di accettare la paura per questo alla tua domanda oggi rispondo che è stato Enrico il mio collega lui non aveva bisogno di istruzioni per sapere cosa fare ecco cos'è il coraggio cioè io dico come si fa non amare questo pezzo arrivato qui ho detto bom ok ciao a tutti beh sono contenta molto contenta mi emoziona mi emozioni molto beh io te l'ho detto subito all'inizio sollevare ogni forma di giudizio non siamo qua a insegnare la vita nessuno neanche meno neanche meno io che devo ancora capirla la mia vita ma probabilmente faccio la scrittrice anche per in qualche modo trovare vivere tutte le altre vite no la cosa bella del teatro e della cinema ovviamente è che si va in scena dopo che le cose le hai fatte mille volte in qualche modo sai cosa devi fare nella vita non è così è un po un buon alaprino e quindi poi ognuno di noi credo che si trovi come dire quelle scamotaggio quelle vite parallele chiamiamole così che se non sono tradimenti se non sono robe oscure sono cose molto piacevo possono essere molto piaceva altrimenti sono grandi dolori dove andare a come dire provare a fare le sue prove le prove generali dietro le quinte ecco io credo che in realtà la scrittura sia questo io nella mia narrativa racconto tutte le cose o che non ho capito tutte le cose che potevo fare meglio perché mi sono sempre questo dubbio che forse potevo farle meglio tutte le cose che non mi sono successe e chissà se non mi sono successe perché è passato un treno di cui io non mi sono neanche accorta oppure se è passato un treno di cui mi sono accorta e non ho avuto raggio di salirci sopra chi lo sa però è tutto materiale narrativo ecco sì 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 sollevare ogni forma di giudizio è fondamentale la prima cosa che insegno a tutti quelli che si approcciano alla scrittura creativa vista da me è sempre questo io stessa non amo quando i miei colleghi o le mie colleghe quando leggo ovviamente altri libri cadono in questo tranello è sempre ovviamente molto difficile soprattutto quando leggi scrittori di esperienza ecco è un po una cosa stoganata ormai io sono una lettrice si dice forte nel senso leggo moltissimo più che altro per per capire tutte le cose che non riesco a capire quotidianamente mi sento una costante indietro rispetto rispetto alla vita quindi e vedo tutte queste verità che dico mio dio ma quindi sono cioè sono veramente la più stupida di tutti perché non ho capito niente e invece ogni tanto una persona delicata che ti poggia i concetti e ti dice guarda che è normale avere tutti i dubbi che c'hai è molto piacevole anche da lettrice ecco quindi grazie quindi io dicevo appunto che Anna è uno dei miei personaggi preferiti mi piacerebbe sapere qual è se si può chiedere a una madre qual è uno dei tuoi figli preferiti e qual è invece il figlio che ti ha disturbato di più ah guarda allora ho amato molto ma perché secondo me nella mia narrativa degli ultimi tempi sto andando a riscoprire questo tipo di personaggio è Enea Enea è un uomo adulto non più giovanissimo che in qualche modo riscopre l'amore nella seconda parte della vita e questo è un personaggio che mi era riuscito bene anche nella giusta distanza con Giulio sono uomini belli uomini che le donne dovrebbero incontrare soprattutto le donne che hanno vissuto delle delusioni amorose forti perché sono uomini che riescono a vivere l'impeto dell'amore con la solarità della giovinezza anche se la giovinezza non c'è più ma con la consapevolezza degli anni che sono passati la consapevolezza degli anni passati ti porta a apprezzare il tempo che è fondamentale c'è un momento in cui le persone smettono di volere cose ma incominciano a chiedere tempo no io stessa se dovessi chiedere alla persona che amo di farmi un regalo gli direi regalami del tempo bello del bel tempo del tempo bello qualcosa di bello ovviamente da stare insieme da fare insieme ecco perché questa cosa è una cosa che comprendi oggi no che insomma una parte di vita è già passata e quindi insomma ti sei un po scontrato con tutte le realtà anche se sei stato molto fortunato no cioè che hai vissuto comunque dei buoni amori degli amori di cui sei orgoglioso di cui hai grande stima di cui mantieni grandi ricordi ma che comunque sono finiti no ecco e nea è esattamente questo nella storia lui è un padre vedovo si dedica alla crescita di sua figlia e rinuncia alla sua parte diciamo d'amore così alle relazioni ecco a incontrare altre persone però l'amore arriva arriva all'improvviso e in modo travolgente ecco e lui è un gran signore è un gran signore molto elegante ed è bello secondo me ha molto da insegnare anche come padre no perché questo nuovo concetto dell'amore gli permetterà poi di essere anche molto incisivo nei confronti della di una figlia che è invece il personaggio che mi ha mandato più in crisi perché chiara è una di quelle persone che avrei scrollato tantissimo ecco ha un carattere totalmente lontano dal mio che riuscire a mantenerla coerente nel suo nel suo guscio senza come dire infiltrarla di quello che avrei voluto non è non è stato sempre facile intanto l'avrei presa come dire a scrolloni e li avrei gridati quindi mi confermi che a un certo punto nonostante la sapienza del mestiere i personaggi prendono anche delle proprie vite delle proprie strade inaspettate bene ma sì 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 funziona anche così guarda un'altra cosa importante di questo mestiere che questo mestiere in cui non si smette mai di imparare non c'è nel momento in cui hai come dire un afferrato una verità da qualche parte poi la devi mettere alla prova un sacco di volte per essere certo 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 che sia veramente così è un mestiere per chi parte non mai per chi arriva io di questa cosa la dico sempre e in queste partenze c'è tutto questo c'è comunque sempre la possibilità di mettersi in giacqua anche di prendere delle cantonate immense no che poi magari nessuno scopre perché non vengono pubblicate e ce la caviamo no con il manoscritto nel cassetto di cui nessuno sentirà mai parlare e che ci proteggerà chiudere la chiave onde evitare poi quelle pubblicazioni post come vergognose però esistono esistono queste cose insegnano molto guarda che che rileggersi e ritrovarsi a volte impacciati di fronte a delle storie delle tematiche delle avventure dire ma io qui non so da che parte girarmi se non ti fai prendere dal panico ma gli dai della giusta importanza può essere molto istruttivo per per capire poi come uscirne no per rimetterti alla prova per rifare l'esordiente guarda che ogni tanto tornare a fare gli esordienti non ci farebbe male un'altra delle cose magari esco un attimo dal romanzo poi ci rientriamo un'altra delle cose che che mi piace di di te è tutto lo studio che ci vedo dietro ai romanzi in generale quelli che i tuoi che ho letto tu sei proprio una studiosa una che studia prima di scrivere è in un mondo che pensa che l'ispirazione ti cada tipo manna sulla testa quindi o mio dio sono colta da questa urgenza di dire no anche cioè magari anche certe urgenze potrebbero restare chiusi tranquillamente nei cassettini con il che dicevo mi piacerebbe sapere da te a che punto della tua vita hai hai capito che che la tua strada sarebbe stata la scrittura e hai iniziato ovviamente prima a studiare poi a insegnare anche scrittura creativa guarda il mio percorso bellissimo perché io ho iniziato a scrivere perché avevo questa passione questa storia che mi sullava in testa quindi la scrisse ormai quasi vent'anni fa e poi rimase nelle mie mani per sette otto anni no che bambina magari ero già laureata e avevo già un attimo lavoro ecco credo forse sia fondamentale da dire perché il fatto di non avere niente da perdere no cioè mi diede molta sicurezza perché io ero molto appassionata alla lettura in modo viscerale la scrittura era qualcosa che mi faceva stare bene ma non avevo la più palida idea se fossi brava o meno cioè brava non vuol dire niente nel modo in cui scrivevo ci fosse qualcosa perché perché nessuno mi leggeva cioè le uniche persone che mi leggevano erano ovviamente mia madre le mie amiche del cuore che ovviamente dicevano che ero bravissima come sempre dalle mie reazioni guarda il talento in realtà non riuscivo a farmi leggere perché farsi leggere da questo benedetto mondo dell'editoria è difficile soprattutto se vieni dalla provincia se sei figlia di commercianti che hanno un negozio di ottica e di editoria non sai niente no quindi io sapevo sì che leggevo tanto capivo però non avrei neanche saputo dare delle come dire definizioni vere e proprie della differenza dei grandi editori ecco sapevo che c'erano dei grandi nomi che sentivo ripetere molto spesso che avevo ovviamente nella libreria di casa poi appunto riesco a farmi leggere da un addetto ai lavori che per me era fondamentale per avere un feedback cioè sapere se c'è qualcosa da salvare no vedete era un editore un piccolo editore che si chiama morellini nella casa editrice morellini c'è una casa editrice di cui adesso mi occupo della narrativa e questo sconosciuto che era allora mi telefonò e mi difese questa telefonata dopo che appunto gli arriva il mio manoscritto attraverso amici di amici di amici di amici c'è una specie una roba veramente all'italiana di uno che conosce qualcuno che forse conosce qualcun altro un cugino e gli arriva questo manoscritto probabilmente lui per proprio perché doveva qualche favore a qualcuno per gentilezza disse vabbè lo leggo e in realtà gli piacque e mi telefonò mi faceva questa telefonata bellissima che io ricordo ancora oggi perché rispondo al telefono e dall'altra parte una voce sconosciuta dice vorrei che lei la smettesse di cercare un editore perché l'ha appena trovato e io figura ti stavo guidando la macchina mi sono infilata in una rotonda e sono uscita 20 minuti dopo cioè continuavo a girare questa rotonda perché poi mi veniva da piangere che metafora meravigliosa anche vedi che tu scrivi anche quando parli è stato uno dei momenti di ballare della mia vita perché per me io ero arrivata da qualche parte ero riuscita a fare qualcosa con le mie forze da sola e tutto il resto poteva essere no certo ma andava bene così avevo qualcosa di mio poi in realtà questo libro io con questo spirito mi inizia ad auto promuovermi come una matta ci mancavano le riunioni di condominio io sarei andata a presentare il mio libro ovunque cioè se fosse qualcuno che ascoltava io mi metterò a contare il mio romanzo quindi in realtà per questo ebbe successo per essere il perfetto il romanzo di una perfetta sconosciuta insomma vedete anche un po di copia e poi insomma il mio secondo romanzo arrivò anche lì per caso furtuito in mano alla mia agente letteraria Silvia Meucci e insomma poi fu pubblicato dalla dalla Giunti e grazie alla Giunti che è sicuramente una candidatrice con una grande visibilità arrivò in classifica io nella prima settimana ero tra i primi dieci libri più venduti in Italia io ancora non mi viene un coccolone ma non lo dico cioè da un lato io ero felicissima no perché dico mi sta succedendo qualcosa di bellissimo dall'altra ero terrorizzata perché perché io lì come gestisco tutto quello no ma sarò capace di fare questo mestiere perché io l'ho capito subito che fare questo mestiere non significa azzeccare una storia cioè che azzeccare una storia è davvero qualcosa che può succedere perché perché è l'illuminazione davvero perché la senti raccontare perché la sai raccontare un uso qualunque di te è stato un colpo di fortuna pazzesco che è il mio secondo romanzo però da lì a diventare uno scrittore in realtà c'è tutta quella parte che tu mi hai chiesto cioè c'è lo studio c'è quella sorta di lotta costante che hai nel azzeccare la storia nel prendere una storia e tirare fuori la trama migliore perché non esistono delle storie brutte e non esistono neanche storie noiose le storie brutte noiose ci sono state raccontate male ogni storia può essere raccontata in modo da diventare qualcosa di memorabile ecco quindi a un certo punto incominci a studiare tutto questo incominci a capire che quella storia ha sicuramente qualcosa di importante ma tu lo devi trovare che raccontata in un modo funziona meglio che raccontata in un altro e allora lì nasce lo studio poi se ti vai come faccio io a volte a scontrare con storie vere piuttosto che storie che hanno dei risvolti sociali vedi un uso qualunque di te scusa vedi niente è come te piuttosto che splendi più che puoi che raccontano appunto tematiche sociali forti lì si studia si studia si studia però in realtà si studia molto anche anche quando scrissi non volare via non volare via racconta la storia di un ragazzino sordo ma il ragazzino sordo gioca a scacchi io vi assicuro che ho studiato la sordità dal punto di vista medico scientifico ma anche dal punto di vista della logopedia della riabilitazione tanto quanto studiate manuali di scacchi perché mancare di rispetto a una persona sorda o uno scacchista per uno scrittore non fa differenza nella vita tutti i giorni è un altro il parametro e non parliamo di rispetto intendiamoci però per me un lettore è un lettore e se uno mi dice scusi signora ma lei la scacchiera non l'ha mai vista perché che ne so la torre non si muove così io ho semplicemente fatto male il mio mestiere ecco anche se apparentemente può sembrare una cosa di minor conto quindi si studia tutto se no il ragazzino lo fai andare a cavallo non sei obbligato a farlo giocare a scacchi ecco è questo il punto fondamentale però se si studia un sacco nella tua vita da insegnante hai incontrato un qualcuno che avesse davvero questo questo fuoco ardente hai riconosciuto qualche talento e anche invece no da persone che credevano beh succede allora sì beh succede in realtà sono piuttosto fortunata perché devo dire che ai miei corsi di scrittura arrivano persone con una buona come si dice una buona penna e anche un'altra cosa bellissima buona dose di umiltà che è tanto bella da vedere no perché e quindi che si lasciano molto rara è molto rara e soprattutto che si lasciano trascinare si lasciano consigliare poi ovviamente ti lasci consigliare da qualcuno per poi confrontarti sempre con qualcun altro no perché la forza è quella no quindi sì ne ho trovati devo dire che ne ho trovati quest'anno anche come curatrice di collana della narrativa della morellini abbiamo lanciato un paio due o tre esordienti devo dire soprattutto donne anche un uomo di cui mi sono davvero appassionata e ho anche dei bei libri in uscita quindi mi sto mi sto dando delle belle soddisfazioni anche da questo punto di vista credo che ci sia ammetto che secondo me questo è il momento delle donne nel senso che forse perché in qualche modo si sono esposte sempre un po meno no per tutte le ragioni storiche culturali sociali di cui non voglio entrare io sono una femminista e quindi leggo soprattutto donne e pubblico soprattutto donne eh però ovviamente anch'io insomma apprezzato apprezzando tutti però devo dire che forse oggi nella quantità trovo che molte autrici femminili anche magari meno conosciute abbiano quella marcia in più quel sesto senso quindi secondo me nei prossimi anni da adesso in poi la letteratura femminile ci darà grandissime grandissime gioie ecco e di questo io sono molto felice. Sara visto che ci sono tantissime persone che ci salutano ci ci stanno seguendo regalaci il tuo estratto preferito. Ah ok aspetta aiuto da 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 non ero preparata così da un bleh. Adesso vediamo se lo trovo. Questa è una delle cose che se ci fossimo incontrate dal vivo sarebbe stata organizzata invece così è il bello della diretta. Eh aspetta però lo devo trovare eh aspetta 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 tanto chiedimi qualcos'altro così nel frattempo scartabello. Ok allora ti chiedo Genova tua città natale. Sì. E sul filo dell'acqua sicuramente non il tuo primo romanzo. Perché hai hai aspettato così tanto per ambientare un romanzo a Genova? Ah perché Genova è una città bellissima ve lo garantisco una città molto molto particolare ne abbiamo già un po' accennata questa sobrietà questa riservatezza molto molto intrinseca però è stata raccontata non molto ma è stata raccontata dai più grandi al mondo i più grandi parolieri sono tutti genovesi e sa come mai però dopo che l'ha cantata di Andrè io ho aspettato dieci anni di carriera se non altro sanno che sto facendo sul serio cioè più di così non so come dimostrarlo no perché sai c'è le improvvisazioni le paghi carissime no indubbiamente poi magari anche rischiare di di passare per quella che vuole no e rabbonirsi la la cittadinanza infatti infatti allora non so se è il mio pezzo preferito ma questo è un pezzo che mi piace molto e l'ho trovato ve lo leggo un anno fa l'alluvione ha portato via diverse vite ma ha lasciato una sola vedova nei giorni seguenti diventai la moglie della città mio marito era morto in servizio aveva portato in salvo diverse persone colte alla sprovvista dalla piena del fiume prima di cercare di raggiungerne altre lo aveva fatto da solo Andrea il suo collega e amico da tempo era rimasto indietro stava aiutando una ragazza appena ripescata dalle acque dal fango quando mio marito aveva risposto a quella richiesta d'aiuto non se ne era accorto nessuno non potevano pioveva ancora forte riuscire a orientarsi in quelle strade sommersi dall'acqua non era facile ma Enrico era un sommersatore esperto forse troppo per ricordarsi che cos'è la paura per questo era lì da solo l'acqua la sua migliore amica lo aveva colpito alle spalle lo aveva trascinato intrappolato sotto al suo peso quando tuo marito è fuori per lavoro un lavoro come il suo l'ultima cosa che speri è che qualcuno ti suoni alla porta lo squillo ha il potere di congelarti impiegai molto tempo per andare ad aprire e a ogni passo non riuscì a smettere di sperare che fosse la vicina che aveva perso il gatto o qualche scocciatore che è sfuggito allo sguardo del portiere attraversai il corridoio grazie alla poca luce che filtrava dalle finestre poi li dividi sono in tre e due di loro sono in divisa da quel momento da quel momento inizia ad annegare anche tu sprofondi lentamente fino a toccare il fondo il momento in cui dovrei dirlo a tuo figlio grazie Sara è sempre è veramente pazzesca la delicatezza con cui con cui affronti gli argomenti e poi devo ammettere che sentirlo leggere da te ha dato una forza emotiva una bella batò grazie tra l'altro perché oggi già ero partita emotivamente un po coinvolta da tutta questa grazie grazie mille e prima di del brano successivo che ci andrai a leggere volevo volevo sapere ti ricordi dove eri tu quel quattro novembre assolutamente per fortuna ricordo perché per fortuna ero a casa il dramma di quella giornata fu che l'allarme arrivò tardi in realtà forse non arrivò proprio e quindi la città si mosse in modo normale io per fortuna vivo in una collinetta e quindi quando ci sono queste piogge torrenziali è sempre buona norma aspettare che siano in qualche modo passate per prendere la macchina ecco e quindi stavo semplicemente attendendo che di fatto smettesse perché non nessuno aveva ancora la percezione che in realtà non sarebbe smesso e le cose sarebbero precipitate poi l'abbiamo capito perché ovviamente i telegiornali hanno iniziato a rimbalzare i cellulari hanno iniziato a rimbalzare a un certo punto hanno smesso perché c'è stata una sorta di black out per cui non si riusciva più a telefonare non si riusciva più ad avere notizie delle persone non sapevi dove erano le persone a cui volevi bene che non ti rispondevano perché magari erano impegnate a fare dell'altro perché erano senza cellulare non lo so c'era tutta una serie di cose normali che in quelle situazioni diventano drammaticissime ecco e quindi la ricordo perfettamente poi è stato un susseguirsi una sorta di giornata spesa davanti alle televisioni davanti alla televisione locale ovviamente poi di fatto a contare le vittime con questa sensazione che è la stessa che io ho vissuto quando crollò il ponte che è quella di essere dei sopravvissuti perché sia per il ponte che per queste allusioni io sarei potuta essere lì ecco è un caso che non ci fosse un caso chiama la fortuna chiama lo destino ognuno ci metta quello che vuole però è davvero un caso quindi quando poi le cose passano tu la vivi così ecco la vivi con questo grande omaggio nei confronti di chi ahimè si è in qualche modo sacrificato al posto tuo ecco e quindi noi genovesi quel giorno come quello dell'alluvione ma come quello del ponte ci siamo portati dietro questo sentimento hai individuato il prossimo brano ah beh sì ci provo vai allora vediamo un po se il mio odio per quel luogo aveva radici profonde lo comprese lì mentre mi rendevo conto che avrei raggiunto una lastra di marmo come se in qualche modo potessimo comunicare la tomba di enrico era in cima a una collina mi infilai nel violetto e camminai verso la mia meta senza guardarmi intorno svoltato l'ultimo angolo mi fermai una persona che non avevo mai visto la seduta davanti a lui mi avvicinai lentamente fino a vedere i fiori freschi che avevano sostituito i miei oh e questo è il mio libro preferito la senti dire quando fui abbastanza vicino fui assalita da un brivido era una donna giovane che non si faceva nessuno scrupolo a parlare con la lapide di mio marito mi tremarono le ginocchia e dovete cercare un punto d'appoggio la mia mente si inondò di pensieri folli peggiori incubi di una qualsiasi moglie la donna estrasse delle fotografie e la allungò verso l'immagine di enrico vorrei tanto che tu li vedessi sono dei bambini meravigliosi sai avanzai mossa da una specie di ipnosi e quando fui a pochi passi da lei la donna si voltò di scatto sembrava spaventata la sedia le rimbalzò a terra il rumore rimbombò nella sacralità di quel luogo rendendo tutto ancora più sgradevole oh mi scusi lei deve essere la moglie sì sono una moglie lei chi è non avevo ancora guardato il sorriso di mio marito tenevo gli occhi su quella donna pronta ad ascoltare la più dolorosa delle verità perché tutti questi oggetti le chiesi guardando il libro quel piccoli quadri appoggiati a terra una scatola di colori perché mostra queste fotografie so che non avrei dovuto venire qui esatto non avrebbe dovuto lei chi è cosa vuole da noi anche la mia voce stava urtando la sacralità di quel luogo ma non mi importava avverti la voglia di farle male suo marito mi ha salvato la vita si affrettò a dire prima che io arrivassi troppo vicino e diventasse così menacciosa da impedirgli parlare cosa chiesi sperando che il mio cuore riuscisse a smettere di correre respirai era logico era il suo lavoro salvava vita lo faceva da oltre vent'anni mormorai la donna afferrò la sedia e me la posta mi ci abbandonai sopra perché nonostante la sua spiegazione fosse la più bella da ascoltare lui era comunque morto e questo non smetteva di farmi male quando è successo le domandai una volta tornata in me conoscevo tutti i suoi salvataggi non c'erano state solo le ripetute alluvioni degli ultimi anni ma anche tante imbarcazioni naufragate o bagnanti incuranti del pericolo del mare sei mesi fa alzai lo sguardo di scatto lei è una delle vittime dell'alluvione del 4 novembre o no io quel giorno ero in ospedale i miei polmoni stavano succedendo ero malata da anni ma ormai non mi bastava nemmeno più l'ossigeno portatile cosa vuol dire io ho i polmoni di suo marito e misi un grido e mi alzai gli occhi mi si riempirono di lacrime e allunga le mani al suo petto me lo lascio fare ecco grazie sara grazie a voi scusate la lettura non organizzata no è veramente grazie non ho altre parole volevo chiederti dimmi io ho consigliato e ho fatto leggere questo libro a ad alcune delle mie migliori amiche consigliando appunto anche di tenere di tenere vicino un pacco di 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 fazzolette esatto perché conoscendo i soggetti il materiale umano come dicevamo prima sapevo a chi indirizzavo questo questo libro invece tu a chi lo consigli e poi un'altra cosa così nel frattempo ci pensi tre aggettivi con cui descrivi sul filo dell'acqua guarda i miei libri di consiglio in generale di consiglierei di più agli uomini che alle donne perché le donne leggono con una certa serenità e invece secondo me gli uomini dovrebbero leggere per capire le donne così magari facciamo pace una volta per tutte e qui e quindi non so beh sono romanzi di solito insomma si vede che hanno un patos e un'emotività forte che ovviamente non voglio non devo dirlo io nel senso che io posso dire che io li scrivo con con emozione con e con il massimo del coinvolgimento poi la speranza che arrivino anche dall'altra parte quindi insomma la speranza è quella che appunto aprano degli dei nuovi modi per vedere le stesse cose di tutti i giorni in fondo io parlo parlo di eroi normali i miei eroi normali siamo noi siamo quelli che si fanno in quattro per arrivare alla fine della giornata a fine mese poi a fine dell'anno che crescono figli che sopportano matrimoni che li mandano all'aria che li ricostruiscono che hanno a che fare con questo concetto di famiglia che ognuno insomma vede giustamente un po come crede e che soprattutto però è stato anche quel concetto forse sociale che è cambiato di più negli ultimi 30 anni e che la mia generazione sicuramente si è portato molto sulle spalle no quindi siamo tutti nati guardando quel sogno del viscero felice e contenti dandolo per scontato poi tutti più o meno tutti abbiamo fatto i conti sul fatto che non era così ma che in realtà non ci stesse non ci stavano raccontando delle balle ecco cioè quello che ci aveva era cambiata la visione per quando poi esatto poi è smesso ha smesso di essere una verità non forse non esiste di essere felici e contenti ma esistono la felicità oggi ora e che va vissuta va onorata anche con la stessa intensità poi esistono anche quelli che riescono a buttare come dire il cuore oltre l'ostacolo e andare oltre ecco quindi in realtà li consiglierei a tutti questi ecco ammetto che appunto le quote blu stanno aumentando quindi sono molto fiduciosa che gli uomini si avvicinino alla narrativa famiglia non solo la mia ma anche quella di tutte le mie colleghe che sono molto bravi tre aggettivi con cui lo definirei dai che sei una regina delle parole forza aiuto 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 allora io aspetta allora non vorrei andare sulle solite cose sull'emotivo emozionante però lo vorrei ecco fresco attuale e profondamente sincero me la cavo così sì te l'ho scavata bene direi che è un top nel frattempo volevo lanciare a coloro che ci stanno ancora seguendo una la richiesta se avete domande ovviamente la l'autrice qui prima di chiudere la nostra il nostro incontro che mi auguro vi sia piaciuto e vi abbia fatto sentire il più vicino possibile a noi io devo dire che che ho avuto questa sensazione Sara prima di chiudere te lo volevo dire cioè a un certo punto le distanze si sono annullate un po' questa cosa mi fa paura perché io sono una estremamente fisica quindi pensare che che una cuffietta e uno schermo possa possa sostituire per un tot di tempo l'abbraccio o la dedica che per esempio sul libro che questo giro non riuscirai a farmi mi spaventa. però da da un altro punto di vista mi fortifica perché penso che poi alla fine si possano conoscere in mezzo a tante persone anche delle delle persone speciali da da portarsi dietro nonostante nonostante tutto. volevo chiederti che cosa che cosa sarà Rattaro nel cassetto in questo momento e l'ultima domanda giuro poi insomma non ti ammorbo più è legata al periodo che stiamo vivendo non voglio chiederti se ne usciremo migliori perché nessuno di noi lo può sapere anzi mi sembra mi sembra che la risposta non sia così così piacevole volevo sapere secondo te la creatività come ne sta uscendo? allora guarda la creatività nel primo lockdown devo dirti la verità io sono stata molto poco creativa nonostante poi siamo nell'anno più prolifico della mia narrativa questo perché sono uscita a contratitoli però non li ho scritti durante il lockdown nel senso che io durante il lockdown un po' per la paura un po' perché in realtà non sentivi parlare d'altro un po' perché eravamo un po' tutti così straniati da quello che stava succedendo ho scritto molto poco creativo ho scritto di più cose un pochino più tecniche quindi romanzi per ragazzi che hanno sono basati su delle biografie romanzate di grandi personaggi della storia scienziati giornalisti eccetera allora sai lì c'è tutta la parte tecnica andarsi a studiare di studiare le biografie vedere come raccontarlo è tutto sommato un percorso più facile da seguire ecco appunto di fatto meno creativo almeno in parte e quindi per fortuna questi romanzi li avevo scritti prima non ti so dire in questo momento io ho una grande voglia di raccontare in realtà poi sono uscita adesso ma è tanto che non scrivo perché appunto prima ho chiuso tutto prima del lockdown quindi di fatto è tanto che non creo quindi ho una voglia pazza di raccontare sono qua con delle antenne tesissime e il fatto di non uscire è un po' inibente quindi che faccio? leggo come una pazza e guardo una quantità di film super struggenti sono sempre con delle lacrime agli occhi perché ho bisogno di fare il riscaldamento muscolare dell'anima non te sente? ecco quindi di andare a scaldare i sentimenti perché poi da lì le storie poi arrivano anche se non sono quelle che vedi ovviamente e quindi questo ecco che cosa sto facendo in realtà il nuovo romanzo per l'anno prossimo di fatto è pronto ecco una bella notizia spero sia una bella notizia che cosa faccio? faccio la direttrice di collana quindi mi leggo un po' di inediti e sto lavorando sul lancio di un vostro libro che ti manderò perché sono delle cose molto belle che ho selezionato io e in cui credo molto per l'anno prossimo giro con dedica per favore perché ci tengo tantissimo non abbiamo più scuse ok e quindi mi butterò mi butto più su questo sperando ovviamente che nel frattempo arrivi ancora una nuova storia per il 2022 perché no ecco anche il nuovo romanzo per ragazzi per l'anno prossimo è pronto perché io ho questa duplice veste tra adulti e ragazzi e dei ragazzi sono molto orgogliosa dei miei romanzi per ragazzi a me piace sempre chiudere con i progetti perché mi dà il senso del fare e mi sembra sempre che ci siano dei puntini sospensivi e non un punto quindi questo è un arrivederci io leggo tantissimi commenti di come insomma ti salutano in tanti non non ci avete fatto delle domande forza non siate timidi se volete far domande altrimenti ti chiedo che cosa prepari per cena cosa prepari per cena allora ho il roast beef e le patate a rosto fagiolini bolliti direi che me la cavo egregiamente mi apriva una bottiglia di vino che ci vuole per questo inizio di lunedì da quando ho smesso di allattare ho ricominciato questa cosa meravigliosa no perché oggi appunto hanno chiuso la scuola di mio figlio però ovviamente le questioni covid quindi per carità è giusto è giustissimo santa decisione della preside assolutamente però ovviamente poi mi si è come dire mi si prospetta una settimana di quelle intense perché fanno passare le giornate infatti no ma perché la scuola è fondamentale e indispensabile perché quando non c'è ti accorgi di quanto le insegnanti facciano perché far passare la giornata senza ovviamente parcheggiare i figli davanti alla tecnologia o la televisione è altro che creatività per fortuna ho comprato un sacco di libri anche per lui e quindi ci leggeremo delle storie bene io ti volevo ringraziare per la disponibilità e per la bellezza di questa conversazione davvero grazie Sara grazie a voi è stato un piacere un piacere enorme alla prossima alla prossima ciao grazie a tutti buona notte buona serata a tutti buona notte buona serata ciao 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 Grazie a tutti